Io non capisco perché Daniel è andato via, gli ho spiegato che voglio stare solo con lui, ma lui è genoso, è andato via arrabbiato. Margherita! Margherita! Daniel, sei venuto da me? Oh, non vedevo l'ora di vederti, arrivo! No, arrivo, sta arrivando! Margherita! Amore! Abbracciami! Oh, sì, mi mancavi tantissimo! Anche tu, anche tu! Vieni, che ti faccio vedere la nostra futura casa! Sì, andiamo! Sì! Vieni, amore, vieni! Oh, quanto sono felice che sei arrivato! Wow, è molto rosa! Sì, perché la casa è mia, non ti piace il rosa? Sì, sì, mi piace tantissimo! Vorrei solo metterci un po' del mio tocco personale! Sai, sono un uomo! Questo è il piano di sotto, questo è il mio letto con la mia coperta! Wow! Ci piace! Qua c'è anche una scrivania, è fantastico! Guarda, si vede la spiaggia! Adesso andiamo al piano sopra, vieni! Arrivo, amore! C'è la libreria qua, vieni! Arrivo, eccomi qua! Qui c'è la tutti i miei libri, qua si vede anche il mare! Wow, veramente fantastico! Hai visto che bello? Il mio lampadario ti piace? Sì, sì! E qua cosa c'è? C'è la doccia! Vai a vedere, vai a vedere tu perché in due non ci stiamo! Io adoro le docce! Ti piace anche leggere i libri? Sì, sì! Mi piace tantissimo! Guarda, qua ci si sta benissimo in due, guarda, posso ballare sotto la doccia! Ahahahah! Che bravo che sei! Che dici se ci passiamo un giro in spiaggia per festeggiare il nostro ritorno insieme? Oh, amore, ci sarà tempo per quello! Prima vorrei capire se tu vuoi vivere con me e non sei più geloso per il mio ex fidanzato! Io mi fido di te, vorrei solo che lui stesse molto lontano! Ah, ma non dipende da me! Hai visto che lui è pazzo, lui non lo sa dove abito, penso che non ti ha seguito per scoprirlo! Spero proprio di no, sennò diventerò veramente molto arrabbiato! Tu non mi hai visto arrabbiato! Va bene, tesoro! Allora andiamo di sotto che ti ho preparato una sorpresa! Amore! Amore, arrivo, arrivo! Dov'è la sorpresa? Tu siediti qua che adesso arriva! Sì! Oh, è arrivata la sorpresa! Ma chi è? Sono io, sono Elisa! Ciao Elisa! Oh, grazie! Entri, entri pure, vieni! Gli altri stanno arrivando! Sì, sì, siediti un attimo là! Ecco, prego, ti puoi accomodare là? Oh, certo! Allora mi accomodo sul divanetto rosa che mi piace di più! Gli dron! Oh, ragazzi! Ciao! Ciao! Prego, entrate! Grazie! Seguitemi! Sì! Anzi, se volete, una di voi può aiutarmi in cucina che c'è anche la sirena là! Vado io, vado io! Andiamo allora! Eh, che bello! Mi diverto tanto ad aiutare in cucina! Mi piace tanto fare i dolci! E vi posso sedere di qua? Ma certo! Siedici pure che devono arrivare gli altri e poi facciamo un aperitivo! E i dolcini! Oh, allora sì! Oh! Io ho bisogno di una bevanda fresca! Ah, ma eccola! Mmm, arance! Ehi, Margherita! Ma mi ho viste da lontani! Prego, entrate! Non mi ho fidanzato, Steve! Piacere, Steve! Margherita! Prego! Non vieni, Steve? Sì, sì, arrivo! Mi sa che sono arrivati tutti, amore, vieni! Vieni, vieni! Ah, ma chi è? Vediamo, vediamo! Ma tu chi sei? Ma non ti ricordi di me? Sono tua cugina, Rebecca! Ah, tesoro, scusami, da tanto tempo che non ti vedo! Vieni! Ciao! Ti presento il mio fidanzato, Giorgio! Ciao! Ma... Da... Va bene, dai, entrate! Faccio finta di niente! Ehi! Ma tu cosa ci fai in casa mia? Ehi! Ma in realtà è casa mia, però neanche io sono contenta che voi sia qui! Tu perché sei qui? Sono il fidanzato di Rebecca! Non ho nessun secondo fine! Io ci credo poco! Fuori da casa nostra! Sì, sono d'accordo anch'io! Vai via! Vai a farti giri con la tua Rebecca d'altra parte! No, siamo evitati a questo aperitivo e io rimango qua! Scommettiamo? Guarda! Ora stanno litigando! Oh sì, sto vedendo! Vado anch'io! Vado anch'io! Oh, vedo anch'io che stanno litigando! Ma... Com'è possibile? La mia cugina sta litigando con il mio fidanzato? Ehi, voi! Perché state litigando? Che succede qua? Tu! Tu cosa vuoi? Io lo so! Che la nostra margherita, la nostra migliore amica ha sofferto per colpa tua! Vai via! No! Usiamo il piano B? Tu da una parte o dall'altra? Vai! Via! No! 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 Via! Mi sto veramente simpatico! Come hai detto che ti chiami? Oh, mi chiamo Steve! Piacere! Diventeremo grandi amici! Sì! Andiamo dalle ragazze! Perché sei così cattiva con me? Perché hai dovuto cattare il mio fidanzato? Sei invidiosa! Io non sono invidiosa! Il tuo fidanzato è il mio ex fidanzato! Ed è venuto qua a mettere nel bidone la mia storia con Daniel! Non si va tutto intorno a te! Se vuoi così tanto Daniel, perché non te lo sposi? Sì! Che buona idea! Adesso ci sposiamo e ci invito al matrimonio, cuginotta! Staremo a vedere! Ciao! Hai visto? Hai visto Daniel? È andata via la mia cugina! Margherita! Quindi vuoi veramente sposarmi? Sì! Non me lo chiedi, se me lo chiedi veramente in ginocchio, ti dico di sì! Margherita, vuoi sposarmi? Certo! Sì! Voglio stare con te tutta la mia vita, Daniel! Sì! Sì! Bambini, noi vi invitiamo al nostro... Matrimonio! Siete tutti invitati! Nel prossimo episodio ci sposeremo! Siete contenti? Scrivetecelo qua sotto! Ciao bambini! 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 Grazie a tutti.